È successo che eravamo troppo bassi, facciamo fatica con i quinti a uscire sui terzini, uscivamo sempre di mezzala e ci facevamo superiorità a mezzo al campo, perciò in altre occasioni ci siamo riusciti in altre partite, perché magari stavamo un po' meglio fisicamente, in questa partita non riuscivamo e abbiamo fatto fatica. Per me il secondo tempo è stato fatto molto bene, ci siamo alzati di tanto, perché abbiamo messo un giocatore in più in avanti sulla prima pressione, abbiamo trovato per me geometrie migliori, siamo arrivati al tiro, poi magari due o tre volte abbiamo tardato a giocare in avanti, ma la partita è cambiata totalmente. Ma questo è un modulo che ci ha dato molto, siamo in un momento che tanti giocatori non sono al 100%, perciò sicuramente vista la partita sì, chiaro, perché siamo andati molto meglio. Un modulo che comunque in passato ci ha dato molto, adesso dobbiamo capire bene com'è la situazione, capire i più e i meno con i due moduli che abbiamo in questo momento e poi fare una decisione, come abbiamo fatto a fine primo tempo. Ma Tabanelli è stato fermo tanto, è stato a disposizione poco, adesso piano piano si sta riprendendo, è un giocatore importante, forte e perciò avrà più spazio in futuro sicuramente.